Ha preso il via in anteprima da Firenze la scorsa settimana e ora si sposta in altre città d'arte e balneari. Movida si cura la campagna di prevenzione anti-covid promossa dall'assessorato regionale al diritto alla salute nei luoghi di vita notturna frequentati dai giovani. Farà tappa venerdì e sabato in 12 diverse località, 7 sulla costa e 5 nell'interno. Sulla costa le postazioni saranno in piazza Matteotti a Lido di Camaiore, a Forte dei Marmi, in piazza Mazzini a Via Reggio, a Castiglioncello, Piombino, Orbetello e Porto Santo Stefano. A Firenze venerdì i prelievi saranno in piazzale Michelangelo e sabato di nuovo in piazza Santo Spirito. Come annunciato inoltre la campagna toccherà anche il Mugello, a Borgo San Lorenzo e Di Comano dove è stato scoperto un focolaio che coinvolge soprattutto i giovani. Altre due postazioni infine saranno in piazza delle Vettovaglie e in Borgo Stretto a Pisa e alla Sala a Pistoia. Dalle 22 della sera alle 2 della mattina, nei gazebo allestiti e sui mezzi mobili del volontariato, chi lo vorrà potrà chiedere di sottoporsi al test sierologico gratuito. Chi dovesse risultare positivo dovrà effettuare a quel punto un tampone molecolare per verificare se l'infezione è in fase attiva oppure no.